oggi abbiamo in linea manuela e con manuela parliamo di filosofia noi pensiamo sempre che la filosofia sia qualcosa che non ci appartenga qualcosa che stia fuori dalla vita tra le mura dell'accademia eppure tutto ciò che siamo trassuda di filosofia perché noi siamo frutto di una tradizione che ci ha resi ciò che siamo una tradizione che sostanzialmente ha posto l'uomo in una posizione completamente diversa dalle altre specie da tutto ciò che lo circondava ecco che cos'è il post umanismo il post umanismo è quella corrente di filosofia che vorrebbe in qualche modo rimettere a posto le cose non è certo un anti umanismo non si vuole andare contro l'essere umano ma cercare di ripensarlo in maniera differente di ricollocarlo all'interno della prospettiva dell'universo e quindi di superare quello che è un altro dei grandi problemi del nostro tempo e della nostra epoca e che ci ha condotti dove oggi siamo l'antropocentrismo l'antropocentrismo è quel concetto secondo il quale l'uomo sarebbe sostanzialmente la sussunzione di tutta la realtà il colpo d'occhio dell'uomo sarebbe quello in grado di cogliere la realtà quale essa è porrebbe quindi l'uomo al centro di tutta la realtà e di tutte le cose attenzione però perché la parola l'uomo non è spuria di dei contenuti che sono dei contenuti molto importanti e molto gravosi per la nostra tradizione ecco stavo per chiedertelo anche a scuola quando studiavamo filosofia usavamo il termine uomo come se fosse neutro e invece non lo è questa parola uomo non parla solo di essere umano ma parla di un uomo specifico che è un uomo bianco eterosessuale maschio normodotato e quindi di un uomo che applica un'azione di dominio nei confronti della realtà ma non solo della realtà delle altre specie ma di tutta la realtà che lo circonda compresa la donna quindi attraverso la sua azione patriarcale imporrebbe alla donna di essere sostanzialmente un essere inferiore ecco perché per me postumanismo è anche femminismo è anche ripensare la figura della donna attraverso una un'ottica completamente diversa un'ottica che non sia più remissiva dimissiva non insegniamo più alle nostre bambine ad essere subordinate in qualche maniera al maschietto di turno ma una donna che prende parola che prende voce che non ha paura di dire e che non ha paura di rompere le scatole perché abbiamo diritto e abbiamo il dovere di esprimerci si può dire che nel postumanismo non ci sono gerarchie è una nuova visione del mondo una visione del mondo in cui non esiste più una piramide verticale in cui c'è qualcuno che sta all'apice e qualcuno che sta sotto ma è una visione orizzontale in cui ogni corpo ogni specie ci parla di diversità e ci parla di una diversità che non è semplicemente inclusiva ma arricchente per tutto ciò che siamo e per tutto ciò che faremo all'interno della nostra vita non esistono più quelli che vengono definiti dei corpi fuori luogo come può essere il corpo animale il corpo disabile il corpo femminile che se non è sensuale e sinuoso ecco che quella non è più una donna ma esistono i corpi e la bellezza di essere un corpo noi siamo dei corpi in che senso il postumanismo può darci una nuova coscienza di noi stessi il postumanismo ci porta a riscoprire il desiderio il fatto che noi siamo animali desideranti e ci spinge ad andare oltre la performatività che questa società ci impone quindi essere semplicemente delle macchine che producono numeri ecco questa è la rottura che il postumanismo vuole dare nei confronti della vita di tutti i giorni una vita che deve essere guidata dal nostro desiderio e da impossessarci realmente di ciò che sia poi l'amore è la possibilità di riscoprirci quali animali sensuali che assaporano il mondo che amano il mondo e che amano tutto ciò che appartiene al mondo queste famiglie che non sono più le famiglie monogamiche ma che diventano delle famiglie a forma di compost in cui possono esserci tante figure che recitano tanti ruoli diversi dalla zia agli altri animali che vivono con noi e arricchiscono la nostra vita perché noi siamo relazione stai dicendo che la filosofia che finora ha dominato le nostre vite era molto meno universale di quanto abbiamo sempre pensato il postumanismo invece punta una visione davvero più universale il postumanismo è una filosofia che auspica una nuova collettività per la costruzione di ciò che è ancora rimasto impensato che è appunto il futuro